Record, una bellissima notizia per le Paralimpiadi, i giochi paralimpici di Parigi perché arriva alla Liguria, a Genova, una medaglia d'oro, quella di Francesco Bocciardo che entra nella storia del nuoto paralimpico. Ne parliamo quest'oggi con Michele Corti di Sternero Sport. Buongiorno e benvenuto. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Non potremmo non telefonarti per commentare. Francesco entra nella leggenda, è davvero un campione straordinario, ha centrato il suo quarto oro in tre paralimpiadi dopo la prima vittoria nei 400 metri stile libero a Rio de Janeiro, la doppietta tre anni fa a Tokyo nel 2021 all'edizione post-Covid dei giochi olimpici con le medaglie d'oro nei suoi 200 metri e anche nei 100 metri stile libero e poi ieri sera questa terza paralimpiade in cui ha timbrato ancora una volta il primo posto con una progressione straordinaria. Filippo Tassara, il suo storico allenatore, aveva pianificato ancora una volta tutto, ha detto vai col tuo ritmo fino alla terza vasca, è stato in terza posizione, poi in seconda posizione, l'ultima virata era secondo, la progressione negli ultimi 50 metri fino alla medaglia d'oro. È il primo italiano nella storia a vincere tre ori in tre giochi paralimpici diversi. Entra di diritto nella leggenda dello sport azzurro a livello internazionale con la sua umiltà, con la sua straordinaria attitudine all'allenamento, un lavoratore nuotatore che va ad allenarsi alle 6 del mattino a tarda sera, davvero un esempio straordinario. Noi siamo onorati di averlo al nostro fianco, i stelle nello sport, nello Sportability Day che arriverà il prossimo 28 settembre e ovviamente Francesco sarà al nostro fianco per quella giornata fantastica alla Sciorba, accogliamo l'occasione per dare l'appuntamento a tutti. Sabato 28 settembre alla Sciorba, lo Sportability Day sarà la festa dello sport per tutte le abilità e Francesco aspetterà tanti tanti ragazzi con disabilità che potranno venire a scoprire la magia dello sport. L'ha ribadito anche ieri sera a caldo, subito dopo la medaglia d'oro, vuole che il suo esempio sia soprattutto questo, avvicinare i giovani allo sport e poi dopo la quarta medaglia d'oro in tre paralimpiadi la dedica più importante al figlio Daniele, arrivato da pochi mesi. Davvero un grande esempio Francesco, una delle più grandi stelle sportive della nostra Liguria. Noi siamo molto felici per lui, anche un grande amico di Primo Canale, spesso ospite anche nelle nostre trasmissioni. Gli facciamo i nostri complimenti. Non è il solo atleta Ligure ai giochi paralimpici di Parigi, abbiamo un bel parterre, una bella rappresentanza. È così, tra l'altro Francesco questa mattina è già pronto a scendere in vasca per i 100 metri, quindi poche ore per festeggiare e sarà nuovamente chiamato a regalarci qualche bella emozione. Al suo fianco, come ricordavi, c'è Amanda Embriaco, canoista dell'estremo ponente, arriva dalla provincia d'Imperia. Amanda ha conquistato in modo brillante la partecipazione a queste paralimpiadi di Parigi e potrebbe davvero essere un outsider molto interessante. E poi c'è Francesca Salvadè, a Mazzone, che è alla sua terza paralimpiade e può davvero anche lei portare a casa un risultato di prestigio. Un'Italia che dopo il primo giorno è già terza nel medagliere, prima in assoluto per quel che riguarda il nuoto, grande soddisfazione per tutta la federazione italiana del nuoto paralimpico. Un'ultima battuta, se mi permetti, vedere Francesco oggi festeggiare i messaggi che ci siamo scambiati ieri sera a caldo, è una grande gioia, soprattutto ripensando alla prima volta che è salito sul palco di Stelle Nello Sport, era il giugno del 2012, la sua ambizione era andare prima o poi alle paralimpiadi, da lì a un mese sarebbe stato incredibilmente convocato per le sue prime paralimpiadi, quelle di Londra 2012. Il resto è storia e anzi direi che da ieri sera è leggella. Una carriera di fatica, diciamolo, e però costellata poi dai successi strameritati che parte proprio da Genova di cui tu sei stata testimone. Grazie a Michele Corti di Stelle Nello Sport, grazie, buona giornata. A voi, buona giornata sportiva a tutti.